...o lassù già sfollati. Mio fratello, sempre quello del cazzotto, diciamo così, doveva procurare qualcosa per mangiare, perché lì non è che ci fossero i negozi aperti. Allora dice, ma vado in campagna al ventena a prendere delle pesche, ci sono dei peschi pieni, quindi era l'estate, pieni di pesche e non le va a raccogliere nessuno. Allora lui è andato qua dalle parti del cimitero e a un certo momento sente arrivare della gente e delle macchine e portavano su i due rasi spinelli per la fucilazione. A quel punto lui è andato sull'albero, tutto si è preso lì in mezzo a guardare tutta la scena. Vede portare questi due, li portano là, c'erano i familiari, una delle sorelle di lui e aspettavano... Grazie. 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 Grazie.